Dai risultati delle elezioni amministrative del 2013 a Roma si conferma la supremazia del candidato del centrosinistra Ignazio Marino. La coalizione Roma Bene Comune ha conquistato un netto consenso in 14 municipi su 15. Alla lista civica Marino va il 7,2% dei voti, il Partito Democratico raggiunge il 24,7% e SEL sale al 5,8%. Una forte domanda di cambiamento arriva proprio dagli elettori di SEL. In più non si può trascurare il forte segnale che viene da quella parte di elettorato che si è stenuta al voto, circa il 40%. Marino dovrà contendersi la leadership della capitale nelle date del 9 e 10 giugno e intanto prosegue nel portare avanti le iniziative che riguardano il lavoro, l'istruzione, la salute e il reddito di cittadinanza per una sfida di cambiamento che tutti auspicano.